Negli ultimi anni il bagno è diventato sicuramente una delle stanze più importanti della casa. Da locale di puro servizio è diventata la stanza del benessere, la stanza dove dedicarsi del tempo. Sposo perfettamente questa teoria in quanto nel mio bagno non solo ci sono i sanitari ma ci sono i miei libri, ci sono dei quadri, ci sono delle candele, ci sono dei tappeti, proprio perché penso che questo locale privato sia il locale in cui ci possiamo perfettamente raccontare all'interno della nostra casa. Sicuramente un altro tema importante nel bagno è l'illuminazione e i colori. Non è assolutamente vero che i sanitari debbano essere soltanto in ceramica bianca. I sanitari possono essere colorati, possono raccontare delle texture che si rifanno anche ad altri materiali.